Ciao a tutti, sono Mattia Cesaria, sono il cofondatore di Square World. Siamo alla Fiera dei Librai con lo stand del Point, Bergamo Sviluppo. È una buona unione tra una performance collettiva e una strategia per crearci un nuovo bacino di utenza. Regaliamo 10 segnalibri in edizione limitata, fatti da 10 artisti del collettivo. Con grafiche diverse che stiamo regalando a tutti gli appassionati dei libri. Saremo qui per due settimane, quindi dal 15 aprile fino al 1 maggio. Speriamo di vedervi qui, frettatevi perché questi stanno per finire. Ciao, un saluto e a presto!